Salve a tutti, mi presento prima di tutto, sono Filippo Mele, sono giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, ho accettato l'invito delle redazioni di MN News e di PolicoreTV.it per condurre una puntata della trasmissione Metro. Iniziamo questo programma con due candidati sindaci di Scanzano Ionico, Claudio Scarnato che è il candidato a primo cittadino di Scanzano Conta e Raffaello Ripoli che è il candidato primo cittadino di Movimento Civico Scanzanese. Abbiamo 20 minuti, voi avete sicuramente la capacità di sintesi, se riusciamo a contenere domande e risposte parleremo di più ai vostri elettori e agli spettatori che vedranno questo programma in televisione su web. Io inizierei con una breve presentazione da parte di tutti e due. Raffaello Ripoli, candidato sindaco del Movimento Civico Scanzanese, avvocato, 46 anni e sono a capo per l'appunto di una lista civica, lista civica formata da cittadini che hanno... Parliamo dopo delle liste. Adesso per Riccardo... Claudio Scarnato, 30 anni, imprenditore agricolo e a capo della lista civica Scanzano Conta. Ecco, parliamo proprio delle liste come prima cosa. Questa lista Scanzano Conta, che cos'è questa? Ce la presenti? Allora, la lista Scanzano Conta parte da un progetto condiviso con dei giovani ragazzi. Ovviamente io non mi vergogno di dire che sono stato segretario del PD, in un'assemblea all'unanimità mi hanno scelto come candidato sindaco, dopodiché ho messo in gambo i miei progetti e niente, sono stati... Non sei più il segretario del PD di Scanzano? No, mi sono autosospeso da quella carica proprio per fare una lista dove coinvolgere delle giovani menti che abbiamo candidato e si sono messe a disposizione per la loro professione e per la comunità di Scanzano. E' una lista civica o di partiti? No, è una lista civica. Su 12 candidati, 10 non sono tesserati. Ripoli? La nostra è una lista civica vera, fatta da cittadini che hanno alle spalle altri cittadini. Nasce, prende le mosse da una riunione fatta all'incirca un anno fa da 5 consiglieri di opposizione, attualmente consiglieri in carica di opposizione, di cui 4 aderirono a questo progetto civico e un consigliere intese rifiutare percorrendo altre strade già viste peraltro. Tu 5 anni fa fosti candidato per un'altra lista ed eri allora segretario di Forza Italia, segretario cittadino di Scanzano di Forza Italia. Non sei più parte di questo partito? No, ero segretario cittadino del Pdl, non di Forza Italia. Nel momento in cui abbiamo, diciamo che ci sono state molte cose che mi hanno indotto a ritenere che l'attenzione, la mia attenzione personale andasse rivolta solo ed esclusivamente al territorio, senza tessera di partito. Sono due anni e mezzo che non ho tessera di partito, non credo più nei partiti e questo lo dico senza mezzi termini, credo soltanto nel mio territorio e nei cittadini e credo che i cittadini si debbano riappropriare della propria entità territoriale. Quello che diceva Ripoli, anche scarnato, mi fa venire una domanda, domanda flash, risposta flash. Ma fanno proprio tanto schifo questi partiti. Una volta eletto dovreste rapportarvi con questi che sono alla regione, alla provincia, al governo del paese. Ma infatti io non rinnego di appartenere al Partito Democratico. Non lo rinnego perché sarei meschino a dirlo, perché fino a ieri ho svolto un ruolo centrale all'interno del partito. Il Partito Democratico è appunto formato da democratici che quando c'è da prendere una posizione anche contro i vertici l'abbiamo fatto. Il referendum sulle trivelle è stato proprio il segnale netto che abbiamo dato. E anche la mia posizione è stata netta e schiera sin dall'inizio. Ripoli? Io ripeto, è una questione di rappresentatività. Allora quando troverò un domani un partito che rappresenti davvero quelle che sono le istanze del territorio, allora benvenga. Ma in questo momento io non mi sento rappresentato e non credo che il territorio di Scanzano, parlo del territorio di Scanzano perché stiamo parlando di elezioni comunali, sia rappresentato da alcun partito. Anzi direi di più, i partiti vengono, saccheggiano, portano via, ma non lasciano assolutamente nulla sul territorio se non danni. Voi siete due esponenti del Consiglio Comunale attuale. Scarnato, Presidente del Consiglio, Ripoli, Capogruppo dell'opposizione, anche perché è consigliere comunale, riconosciuto questo ruolo dalla tua candidatura a Sindaco. Cosa rimproveri di più all'opposizione che avete avuto in questi cinque anni, in particolare a Ripoli? Ma rimprovero particolare sulla mancanza magari di proposte, di alternative. Non ci sono state proposte fattive, anche sui bilanci, quando sono stati fatti dei bilanci, mai un emendamento, anzi forse all'ultimo Consiglio è arrivato un emendamento che sarà oggetto di valutazione credo sabato in prima convocazione. Del resto la mancanza anche di comunicazione, perché poi alla fine si fa opposizione, però anche nell'opposizione bisogna rendicontare al cittadino. In cinque anni questa cosa non l'ho vista, non è stavello. Noi abbiamo fatto un'opposizione serrata, abbiamo fatto tante proposte che sono rimaste inascoltate da parte di chi è stato assente completamente in questi cinque anni, perché c'è stato un asse, quello che rimprovero io alla maggioranza è un'assenza totale, una mancanza di potere decisionale. Io ricordo l'episodio dell'infermiera comunale dove lui si impose, seguì la mia scia perché io mi lamentavo della soppressione dell'infermiera comunale. Scarnato intervenne aderendo alla mia posizione che non voleva la soppressione, praticamente non l'ha pensato nessuno ed era segretario cittadino del PD, non gli ha dato retta nessuno e la soppressione dell'infermiera comunale c'è stata. Noi abbiamo fatto tante proposte, ne dico una su tutte, per la quale il consigliere Stasi, l'assessore Stasi un anno fa disse mi sa che avete ragione, dobbiamo istituire la tassa di soggiorno, perché dobbiamo abbassare le tasse ai cittadini e farle pagare al turista i 7 euro in più, magari settimanali, non gli pesano. Non hanno mai inteso darci ascolto finché quest'anno la tassa di soggiorno non è stata sospesa dal governo centrale. Tant'è vero che noi nel programma per serietà abbiamo scritto, non appena sarà ripristinata la tassa di soggiorno, sicuramente sarà uno dei primi, diciamo sarà da noi imposta a carico dei turisti. Parlando arrivano gli input, quindi qui non c'è niente di preordinato, domande scritte eccetera. Voi qui avete tutti e due il programma, però se me lo leggete tutto copriamo tutto il periodo della trasmissione. Ecco, sintetizziamo questo programma, la prima cosa che farà il sindaco scarnato se sarà eletto sindaco, appena arriva al Comune. Ma la prima cosa che ci vede impegnati non appena eletti, insomma credo che sia la volonda di tutti, è quella di risolvere il problema spazzatura. Noi lo faremo ovviamente con la raccolta differenziata in modo drastico perché non ho condiviso in questi anni passati la scelta di fare una cosa graduale, noi punteremo a farla drasticamente. Come la faremo? Vogliamo riattivare anche il servizio civile dei cittadini che servirà a sensibilizzare proprio il cittadino nel distinguere i rifiuti, quindi l'alluminio, la plastica, la carta eccetera. Ovviamente un nuovo input sarà quello di deprecarizzare Scanzano come lo faremo attraverso degli strumenti che attueremo se siamo vincitori con la nuova amministrazione che può essere... Deprecarizzare che significa? Spiegalo in termini un po' più. Deprecarizzare significa farci rimanere sul territorio, cioè lasciarci sul territorio. Lotta al precariato. Allozzo al precariato, sì, vero e proprio. E quindi, come dicevo, attraverso dei bandi sui B&B, cioè agevolare a chi ha la seconda casa a trasformarli in B&B perché ci vogliamo sfruttare... Cos'è sempre il Bed & Breakfast? Dobbiamo spiegare bene a chi ci ascolta? Il Bed & Breakfast praticamente dobbiamo sapere che la scia di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 porta un più 13% di presenze nel metapontino. Scanzano questa scia non la riesce a sfruttare e noi daremo un input al cittadino, a chi ha la seconda casa, per rivitalizzare il centro storico, i casilini, a trasformarli in B&B in modo da sfruttare questo da noi e dare reddito al cittadino. Ripule, eletto sindaco, appena arriva al Comune che fa? Taglia gli sprechi e i costi inutili. Mi riferisco chiaro e tondo alla posizione dello staff del sindaco perché noi abbiamo un grande problema di cassa nel bilancio comunale. Non c'è liquidità, tante per che hanno pagato gli stipendi dei dipendenti comunali, ci sono una serie di indicatori che dicono che non c'è liquidità. Quindi la prima cosa in assoluto, prima di pensare a tutto il resto che pure va fatto, immondizia, sicurezza sul territorio, bisogna pensare a queste cose. Però la prima cosa è far respirare le casse comunali. Due sono i metodi, o tagliare gli sprechi o aumentare le tasse. Noi ovviamente vogliamo tagliare gli sprechi. Lo staff del sindaco costa 40 mila Euro, lo taglieremo sicuramente perché se devo scrivermi delle letterine o devo aderire a qualche iniziativa lo faccio personalmente, non ho bisogno della segretaria particolare. Quindi 40 mila Euro abbiamo intenzione di reinvestirli nel ripristino del servizio infermieristico comunale, nell'assistenza didattica ai diversabili a scuola, perché è stata soppressa, ahimè, anche queste le categorie disagiate vanno tutelate. Altro esempio, riunificheremo i due settori del settore tecnico con quello urbanistico, sicché la figura del responsabile sparisca e ci sia un solo dirigente, che significa abbassare lo stipendio ad uno dei due attualmente presenti e quindi recuperare altre risorse. Taglieremo sicuramente il servizio esternalizzato per la riscossione dei tributi, che ci costa 200 mila Euro all'anno, e lo faremo in house con dei dipendenti comunali. Tutto questo servirà a portare respiro alle casse comunali e quindi ad avviare tanti progetti che abbiamo in animo di realizzare. Poi passeremo alla differenziata, una differenziata secca, porta a porta, con un sistema di controllo, con la creazione delle isole ecologiche, qualcuno dei suoi candidati ha detto le penisole, no, sono isole ecologiche, non sono penisole. Dopodiché abbiamo ancora altro, tanto altro da... Le prime cose abbiamo capito, credo che siano state abbastanza chiari tutti e due. C'è un problema che riguarda Scanzano Ionico, no? Scanzano Ionico, cuore del Metapontino, però nell'immaginario della popolazione proprio di questa zona, Scanzano un po' come dire la Cenerentola. Ecco, cosa farete voi per fare in modo che Scanzano acquisisca un ruolo importante, non dico al pari di Policoro, ma che possa competere con Policoro e con gli altri comuni da Bernalda a Novasilio? Ma guardate, sono due i settori trainanti dell'economia Scanzano. L'agricoltura e noi non abbiamo in mente di fare grandi cose la piattaforma, noi vogliamo stare, assistere, affiancarci ai piccoli imprenditori agricoli perché quelli più espansi, quelli più grossi, forse sono sempre quelli agevolati, sciorinando numeri con i fondi PEAS che poi vanno a finire sempre alle stesse persone. Noi vogliamo stare al fianco invece dei piccoli imprenditori agricoli, quindi dargli una mano con misure concrete, con la creazione di uno sportello, affiancarli e favorire soprattutto l'associazionismo, questo per quanto riguarda l'aspetto agricoltura. Per quanto riguarda l'aspetto turismo, siccome non vogliamo scopiazzare nessuno, qui c'è stato un difetto, un grande difetto che è importantissimo nella pubblica amministrazione, di programmazione, di pianificazione. Parlano tutti di turismo, ieri c'è stata una scimmia urlatrice sul palco che ha detto che deve dare calcio. Non parliamo degli assenti. Ah beh, se è un programma amministrativo è quello di dare calcio e pugni e schiaffi alla gente, insomma, a me non mi sembra un programma. Per quanto riguarda il turismo che facciamo? Il turismo, per il turismo, sicuramente in termini ricettivi, diversificazione ed ecosostenibilità, quindi va bene tutto, villaggi, campeggi, bed and breakfast, va bene tutto, ma dobbiamo anche capire una buona volta, una santissima volta, qual è il target al quale ci vogliamo rivolgere. Cioè Rimini e Rimini e Iesolo e Iesolo perché si è rivolto a un target giovane, quindi le infrastrutture che ha fatto le ha fatte in virtù di attrarre quel... Io ho una mia idea personale che mi suggerisce la spiaggia, il fondale basso iniziale e il terreno sabbioso che è assolutamente agevole per due categorie, bimbi e diversamente abili. E' chiaro che attorno a questa idea, e anziani anche, ma attorno a questa idea diciamo, devono adeguarsi anche le strutture e le infrastrutture che competono poi alla parte amministrativa devono essere realizzate per attrarre questo tipo di persone, con le famiglie ovviamente. Scarnato, cosa fare per lanciare Scanzano nel Metamontino e in Basilicata? Ma Scanzano effettivamente sono i due settori, agricoltura e turismo, però bisogna puntare anche al commercio, cioè deve iniziare a rivivere proprio il centro della città. Scanzano al momento non ha un vero e proprio centro, bisogna iniziare a centralizzare un po' tutte le attività, cercare di fare un vero e proprio centro polo commerciale all'interno del paese, perché deve iniziare a rivivere non solo i tre mesi d'estate, ma deve vivere 365 giorni all'anno. L'agricoltura è un settore che va da solo, va accompagnato. Noi abbiamo inserito all'interno del programma, ovviamente non dico che lo faremo sicuro, però è una cosa che pensiamo che può sostenere l'agricoltura e quello di una piattaforma logistica in virtù della nuova zona artigianale, che non è altro che un interporto, cioè agevolare i trasporti. Il vero problema che ha oggi l'agricoltura è quello del trasporto. Noi con una cosa del genere potremmo effettivamente dare una soluzione e chi meglio di noi si può sedere effettivamente, concordare, coinvolgere tutti i colossi e non solo, anche i piccoli imprenditori che oggi si affacciano a fare questo determinato lavoro e ce ne sono parecchi, perché con i nuovi bandi che noi sponsorizziamo, cioè ingentiviamo a farli fare, coinvolgere queste agende affinché poter chiedere un vero e proprio finanziamento per una cosa del genere. Questione sicurezza. A Scanzano dopo le 20 i vigili urbani finiscono il loro turno, non ci sono più forze dell'ordine. Si parla di questa caserma dei Carabinieri dopo che il commissariato è andato via. Arriverà questa caserma scarnato? Allora, praticamente la questione della caserma dei Carabinieri, diciamo c'era un'intenzione di fare la volontà che i Carabinieri vogliono venire a Scanzano, c'è ed è stata espletata anche sui giornali, credo che anche lei lo può confermare. Inizialmente si era pensato di investire su una struttura a Scanzano stanziando dei fondi di 600 mila Euro. Oggi invece pare che il Ministero della Difesa voglia accorpare il Corpo Forestale dello Stato all'arma dei Carabinieri. Se questo avviene è ovvio che avendo un presidio del Corpo Forestale dello Stato, automaticamente possiamo avere anche noi la caserma dei Carabinieri. Cambiamo le insegne ed è fatta? Diciamo che è così, sì, effettivamente può essere così, però se questo non avviene è ovvio che ci spingeremo affinché un presidio va ripristinato a Scanzano perché un paese di 8 mila abitanti non può non tenere un presidio delle forze dell'ordine. Ripolo arriverà questa caserma dei Carabinieri a Scanzano? C'è stata una presa in giro continua su questa vicenda che è partita con il grande, gravissimo errore del Sindaco Jacopellis che ha fatto sì che il commissariato andasse via perché noi ci siamo spesi come opposizione perché il commissariato rimanesse e non dovesse andare via. Dopodiché comincia la farsa della caserma dei Carabinieri. Fanno una delibera farlocca perché stanziano 600 mila euro per rifare l'immobile di via Morrino per la costruzione di alloggi del comandante come richiesto dall'arma dei Carabinieri, il problema è che scrivono 600 mila nella delibera ma manca il parere finanziario perché mancano i soldi, perché soldi non ce ne sono per fare la piattaforma, per fare il centro commerciale, non ce ne sono, quindi noi non vogliamo prendere in giro la gente, vogliamo dire le cose serie. Al momento la caserma dei Carabinieri per quanto mi costi, alla luce degli atti amministrativi consumati dalla maggioranza, è impossibile che arrivi in questo momento, però oso andare oltre, c'è ancora forse la possibilità di recuperare nuovamente il commissariato, perché? Perché non c'è un decreto attuativo vero e proprio oggi dello spostamento del commissario di Scanzano a Policoro, le do questa notizia, da parte del Ministro non c'è, il commissariato è ancora di Scanzano Ionico sulla carta, quindi forse ci sarà la possibilità di riportarlo indietro. Posso fare una precisazione sul centro cittadino, nella quale si hanno queste idee megagalattiche di centri commerciali e quant'altro, noi abbiamo un progetto molto più leggero, anche perché nel centro cittadino la volumetria è finita, non si può utilizzare volumetria oggi, l'unico strumento indietro per la volumetria Scanzano è il piano d'ambito che va indietro per la volumetria. Noi abbiamo pensato invece ad un progetto con strutture leggere e amovibili, faremo un bando per il posizionamento in varie zone del centro, dislocate in varie zone del centro, di strutture leggere dove si avvieranno attività commerciali. Abbiamo un minuto, perché gli elettori di Scanzano debbano votare Scarnato? Tre aggettivi. Prima di tutto mettiamo in gambo delle professionalità che possono contribuire veramente alla crescita del nostro paese. Se volete che Scanzano ritorni a contare, noi siamo qui. Perché devono votare Ripoli gli elettori di Scanzano? Perché Scanzano non deve contare i danni che hanno combinato loro, bisogna creare un'alternativa seria, quindi intraprendere una nuova strada. Noi abbiamo fatto una proposta alternativa a questa amministrazione uscente, siccome Scarnato per me rappresenta la continuità in quanto Iago Bellis era stato messo lì dal PD, il PD ha messo a candidato sindaco Scarnato, quindi la prosecuzione naturale e la continuità, noi rappresentiamo l'alternativa. Se la gente vuole cambiare, rotta, deve votare per noi. Salutiamo tutti, è stato solo un primo appuntamento, io credo che Metro tornerà sull'elezione di Scanzano Ionico, probabilmente sarò io a condurre anche gli altri incontri tra gli altri candidati e annunciamo anche, se mi permettono i redattori, che le redazioni di MN News e di Policoro TV.it sta pensando a organizzare un incontro a quattro, tutti e quattro i candidati sindaco all'aperto a un'intervista pubblica collettiva.